La prima parte del canto quindicesimo del Paradiso. Ma ragazzi, ma scusate, provate a immaginare di fare un viaggio nel Paradiso. Chi vorreste anzitutto rivedere nel Paradiso? Vediamo un po', rispondete. Ecco, degli amici, sicuramente. Amici e parenti, esattamente. Parenti stretti, magari. Quindi, provate a pensare, se qualcuno ha perso i genitori, io per esempio ho perso i genitori, anche fratello. Ecco, io se dovessi pensare, chi vorrei incontrare in Paradiso, penserei a una persona così. O un amico davvero grande, importante. Anche Dante, ecco, ovviamente incontra un parente. Solo che noi rimaniamo un pochettino, come dire, spiazzati, diciamo la verità. Perché il parente che incontra è un trisnonno. È una cosa un po' particolare, no? Diciamo la verità. Noi avremmo pensato a suo padre, a sua madre, che erano morti, oppure al massimo al nonno. Come mai? Beh, la risposta sta in questi termini. Mio fratello, per esempio, diceva, era sicuro di trovare in Paradiso la nonna. Perché con la nonna si era creato un rapporto ideale di valori, di grande condivisione, di sogni, di valori, di desideri. Certe volte non sempre questo accade con i genitori. A Dante diciamo che non era accaduto. Ecco. Allora, non so se vi ricordate il primo canto del Paradiso. Ebbene, nel primo canto del Paradiso Dante si lamentava di questo. Che certe volte, certe persone, la maggior parte delle persone del suo tempo, non volavano alto. Cioè non desideravano grandi cose. Lui fa l'immagine dell'alloro. Non so se vi ricordate di Apollo, l'alloro, eccetera. Ma si accontentavano. Ero un po' meschine, un po' basse. Volavano molto, molto basso. Ebbene, il nonno e il papà di Dante e Righieri erano delle persone un po' così. E' incredibile, è assurdo. Ci sembra strano pensare a una cosa del genere. Pensare che il padre di Dante e Righieri, un poeta che ha espresso probabilmente il più grande poeta della nostra letteratura, sia stata una persona un po' meschinella. Eppure è così. Diciamo la verità. Questa era praticamente una famiglia di nobiltà un po' decaduta. E allora cosa facevano? Sbarcavano un po' al lunario. Cercavano in qualche modo di arrabbattarsi. In affari che non sempre erano così puliti. Per esempio un pochettino anche di usura. Ed è una cosa bruttissima l'usura. All'epoca ce n'era tanta, insomma, di usura. Dante la condanna severamente, nell'inferno, eccetera. Oppure di ignavia. Cioè gente molto, come dire, di cui è meglio tacere che non parlare. Invece il suo trisnonno sì. E beh, certo che lui non l'aveva conosciuto perché era vissuto nel secolo precedente. Però ne aveva sentito parlare. Lui sì. Lui era uno che aveva combattuto insieme con la Barbarossa in una crociata. Ed era un santo, si può dire, no? Allora lui sì. Di un parente parla nella Divina Commedia, ma è il trisnonno. Adesso abbiamo un po' capito anche come mai. Con lui c'è questo rapporto ideale, questo filo ideale. Di lui è sicuro di vederlo nel paradiso. Di altri suoi parenti, ce ne sono stati anche altri di cui adesso non vi racconto. Anche perché io ovviamente non sono uno studioso della biografia di Dante o della sua famiglia. Però un pochettino, addirittura anche con altre cose ancora un po' più brutte che forse hanno fatto alcuni dei parenti di Dante. Ma sapete com'è? Nella Firenze del tempo, per prendere il potere, certe volte bisognava un po' sommaturarsi il naso o fare delle cose non sempre così legali e in linea con gli ideali. Ma adesso arriviamo a parlare del nostro quinto cielo. E infatti passiamo dal quarto cielo, che è il cielo del sole, il cielo dei sapienti, al quinto cielo, il cielo degli spiriti combattenti per la fede. Mentre ricordate, i sapienti si presentavano a Dante sotto forma di corone di sapienti che ruotavano intorno a lui e con i quali ha disquisito di tante questioni, soprattutto ha avuto dei dubbi e per sciogliere questi dubbi ci sono voluti i canti interi. Come mai negli ordini religiosi mendicanti, che sono quelli dei francescani e dei dominicani, certe volte si esce fuori dalla strada, come si dice, si sbarella. E' un po' una traduzione un po' gergale dell'espressione dove ci si arricchisce spiritualmente se non si vaneggia. Primo dubbio. Secondo dubbio, come mai Sant'Omaso aveva detto che nessuno era stato più sapiente di San Omone, ma è chiaro, era evidente, lo risponde Sant'Omaso, se non sbaglio, tra il XIII e il XIV, che Cristo è fuori quota, insomma. Certo che Cristo è stato più sapiente, è nello stesso tempo l'uomo e Dio più sapiente di San Omone, ma parlando degli uomini mortali, insomma, sulla terra, allora sicuramente San Omone è stato più sapiente. Va bene, finite, insomma, lasciate un po' da parte queste questioni e salutati beatamente i sapienti, le anime dei sapienti del quarto cielo, si ascende al quinto cielo, che è il cielo degli spiriti combattenti per la fede. Allora, Dante non è imparziale quando si tratta di religioni, senz'altro, di lotte fra religioni e di guerre o di crociate. Lui è chiaramente dalla parte dei cristiani e quindi ci esalta un crociato. Cioè, questo tale suo trismonno è un crociato, l'abbiamo detto. Erano altri tempi, stiamo parlando del Medioevo, e quindi dobbiamo prendere il nostro Dante per quello che è. E' un uomo del suo tempo, sicuramente. Ma dicevo che questo gli permette di essere in grande sintonia con questa gente che ha dato la vita per la fede. E quindi in particolar modo, dicevamo, con questo suo trismonno. Al centro del paradiso, e questa comunque è la cosa che ci interessa di più, ci sono tre canti collegati fra loro da una voce narrante, che è quella di Cacciaguida, che parla, parla tanto, così come aveva parlato tanto Giustiniano, abbiamo visto. L'anima che parla di più a Dante di tutta l'opera è questo suo trismonno. Occupa tre canti interi, si può dire, questo incontro con questo trismonno. Noi lo vedremo adesso, oggi, quando leggeremo questo canto, il quindicesimo, e poi quando leggeremo il diciassettesimo. Al centro del paradiso c'è Dante, con la vicenda della sua famiglia, con la sua vicenda terrena, insomma. E quindi poi vedremo, in questo quindicesimo, soprattutto vedremo appunto il rapporto con questo trismonno, no? Il rapporto ideale con il trismonno, eccetera. Ma nel diciassettesimo vedremo il suo esilio. Quindi Cacciaguida è colui che profetizza in maniera più chiara e dettagliata che cosa capiterà a Dante nell'esilio. Questa volta, insomma, il protagonista è lui, è l'uomo Dante, con la sua storia, il suo passato, le sue radici, i suoi sogni, i suoi desideri, la sua città idealizzata, che è la Firenze del 1100, che non ha nulla a che vedere con la Firenze del 1300, perché è completamente diversa, è cambiata da così a così. E lui è un nostalgico, l'abbiamo già detto, anche parlando della politica, abbiamo già detto che Dante è un nostalgico, è un nostalgico della monarchia universale, cioè dell'impero, è un nostalgico della Firenze del suo tempo, eccetera, eccetera. E questo emergerà soprattutto nel diciassettesimo canto che leggeremo, che è il canto dell'esilio, è il canto del futuro, del destino che toccherà a Dante, che sarà un destino amaro, diciamo la verità. Abbiamo già detto più e più volte, lui immagina di aver fatto questo viaggio nel 1300, al culmine del suo potere politico, quando stava per diventare priore di Firenze, ma poi le cose andranno molto male a Dante da un punto di vista politico, storico, eccetera, come ben sappiamo. Ma questo comunque, dice Dante con un certo orgoglio nel diciassettesimo, non toglie la dignità, anzi, l'aumenta. Aumenta la dignità alla sua esperienza umana e anche alla sua opera. Ma adesso stiamo anticipando cose che diremo quando faremo il diciassettesimo. Ma il quindicesimo e il diciassettesimo sono collegati fra di loro. In realtà è sempre stato lui, certamente, il protagonista del poema della Divina Commedia. La Divina Commedia non è che parla dell'inferno, del Pugatorio e del Paradiso, ce l'ha detto il professor Moratti, parla di noi. Parla dell'oggi, non parla dell'al di là, ma parla dell'al di qua, cioè di come noi viviamo la nostra esperienza sulla Terra. Ma qui, comunque, in questi tre canti, lo è. In modo ancora più esplicito, questi tre canti sono dedicati a lui, sono dedicati a Dante. Soprattutto vedremo effettivamente il diciassettesimo, ma anche il quindicesimo. Eh sì, che sono dedicati a Dante. Perché vedremo che nel quindicesimo, sono centocinquant'anni che il suo trisnonno aspetta che lui arrivi, che lui arrivi in Paradiso. E questa è una cosa un po' particolare che racconteremo oggi, no? Cioè che Cacciaguida è da centocinquant'anni che sa che sarebbe arrivato questo suo discendente e che lo sta aspettando. Il canto, il canto quindicesimo, è radicalmente diviso in due parti. La prima, divina, tutta centrata sulle stelle, sull'inefabilità dell'esperienza che abbiamo incontrato sin dall'inizio della cantica. E così avremo anche una visione molto più chiara del quinto cielo. Cioè il cielo di Marte, il cielo degli spiriti combattenti. E vedremo come si presentano a noi le anime di questi martiri della fede. Ma la seconda, la seconda parte del quindicesimo, è tutta umana, incentrata sugli avi di Dante, incentrata su quei tempi, su quella Firenze che è ovviamente paragonata e molto distinta rispetto alla Firenze del tempo di Dante. C'è il rimpianto di una Firenze ben diversa da quella in cui Dante è nato, soprattutto perché tutto sommato la Firenze in cui Dante è nato lui ricorda con tanto affetto la sua infanzia, eccetera. Era anche un periodo, combinazione era un periodo di pace. Quando lui è nato praticamente stava terminando, era finita la guerra con i Ghibellini e quindi non c'erano più, per un certo periodo a Firenze non ci sono stati scontri, rivalità. Poi però le cose, verso la fine del 200, come ben sappiamo, sono degenerate, quando ormai i Ghibellini non ci sono più e i Guelfi si dividono fra di loro e fanno una guerra civile fra di loro che poi diventerà ancora più sanguinosa di quella che c'era stata qualche decennio prima fra Guelfi e Ghibellini. Il tramite di questo passaggio dalla prima parte del canto tutta divina alla seconda parte più umana è proprio Cacciaguida. Il protagonista di questi canti il trisnonno di Dante. Non a caso Dante incontra questo suo padre nel canto quindicesimo così come in un altro canto quindicesimo aveva incontrato il padre della sua formazione culturale Brunetto Latini che insomma Dante con una certa amarezza ha visto tra le schiere dei sodomiti insomma proprio qui voi Ser Brunetto era stato però un punto di riferimento il punto di riferimento della sua cultura della sua formazione di intellettuale adesso invece incontra Cacciaguida che è punto di riferimento del suo spirito diciamo cioè della sua visione religiosa e spirituale della vita così come Brunetto anche Cacciaguida testimonia della perdita definitiva dell'originaria nobilità fiorentina come dire quindi c'erano una volta c'erano una volta persone come a Firenze c'erano una volta persone come Cacciaguida quindi persone che davano la vita per la fede o c'erano persone come Brunetto Latini che erano dei grandi divulgatori di cultura adesso a Firenze ci sono solo persone che si scannano tra di loro per futili motivi politici ed economici ma c'è un'analogia anche fra Dante e Cacciaguida Dante infatti è martire in un certo senso anche lui come Cacciaguida come lui potrà rivivere solo in cielo la pace per lui la pace non è più possibile sulla terra perché anche lui soffre come Cacciaguida sarà sofferente combattente e sofferente in un certo senso ah nel quindicesimo dell'inferno tra i sodomiti aveva incontrato Ser Brunetto il padre intellettuale potremmo dire di Dante e qui incontra Cacciaguida che è il padre spirituale di Dante cioè Dante riesce a trovare nell'albero genealogico della sua famiglia un punto di riferimento ma abbiamo detto non è suo padre o suo nonno assolutamente no ma deve arrivare un po' più indietro nelle generazioni e iniziamo pertanto a leggere il quindicesimo canto benigna volontade in che si liqua sempre l'amor che drittamente spira come cupidità fa nella iniqua silenzio puose a quella dolce lira e fece quietare le sante corde che la destra del cielo allenta e tira cioè la volontà divina rivolta al bene benigna benevola nella quale sempre si rende visibile si liqua si scioglie potremmo dire si liqua letteralmente perché non prendete appunti perché non non se siete stancati non parlate perché vi stancate anche a parlare tantissimo nella quale si liqua l'amore cioè si fonde potremmo dire quindi si esprime l'amore che si muove nella giusta direzione che drittamente spira come cupidità fa nella iniqua come invece la cupidigia quindi la vidità ricordate la lupa nell'inferno è sempre il vizio peggiore del suo tempo si manifesta nella volontà di fare il male nella iniqua cioè nell'ingiustizia nella iniqua volontade qui ovviamente abbiamo l'antitesi fra all'inizio della terzina benigna volontade alla fine della terzina l'iniqua volontade così come amore è fortemente contrapposto a cupidigia cupidigia come a dire l'egoismo l'egoismo è proprio l'opposto dell'amore capisci Alessandro impose silenzio a quel dolce coro ecco ovviamente si impone silenzio al dolce coro degli spiriti sapienti del quarto del quarto cielo e fece tacere le sante corde le sante corde sono le corde di quei santi strumenti è una metafora per dire le voci dei beati no che la mano divina tende o rilascia a suo piacimento che la destra del cielo allenta e tira quindi continuando la metafora Dio è come un suonatore di uno strumento e le corde di questo strumento sono come le anime che si lasciano suonare insomma da Dio docilmente diventano appunto uno strumento della volontà di Dio siamo ancora nel passaggio fra il quarto e il quinto cielo come saranno a giusti preghi sorde quelle sostanze che per darmi voglia che io le pregassi a tacere fur concorde vuol dire come potranno essere sorde alle nostre giuste preghi alle nostre giuste preghiere se noi preghiamo insomma i santi che sono in paradiso sicuramente loro risponderanno alle nostre richieste visto per esempio come sono stati tutti quanti una volta che Dante ha chiesto loro ha fatto loro delle domande sono stati tutti quanti disponibili per invogliare Dante per dare a Dante modo di esprimere i suoi dubbi le sue domande sono sono stati disponibili e Dante ha pregato loro per darmi voglia a chi io le pregassi per creare le condizioni ideali migliori perché Dante potesse implorare chiedere loro spiegazioni eccetera tutte erano state in silenzio a tacere fur concorde insieme perché non sono più qualcosa di uno diverso dall'altro uno solitario rispetto all'altro ma sono un'armonia una concordia di anime insieme ruotano insieme dicevamo stanno sempre e allora se hanno fatto così a me faranno così anche a voi quando voi li pregherete bene e che senza termine si doglia chi per amor di cosa che non duri eternalmente quello amor si spoglia qua un po' questo inizio del quindicesimo ci ricorda l'inizio dell'undicesimo vi ricordate che già nell'inizio dell'undicesimo ho visto questa sete questo desiderio spirituale che ci deve spingere e ci deve distogliere da quelli che invece sono gli affari molto più meschini molto più bassi e umili che generalmente invece ci attanagliano allora è giusto che senza termine cioè eternamente soffra si doglia chi per amore di cose effimere per amore di cose che non dura per sempre quello amor si spoglia cioè si priva eternamente di quell'amore quale per gli seren tranquilli e puri discorre ad ora ad ora subito fuoco muovendo gli occhi che stavano sicuri e pare stella che tramuti l'oco se non che dalla parte onde si accende nulla se imperde e adesso dura poco bene è la come dire è la similitudine con la quale Dante ci spiega un attimino come si presentano a lui invece le anime del quinto cielo che cosa dice questa similitudine come attraverso il cielo notturno sereno per gli seren tranquilli e puri quindi sono i seren tranquilli e puri sarebbero appunto il cielo notturno quieto limpido di quando in quando ad ora ad ora discorre subito fuoco passa velocemente una luce infuocata che potrebbero essere ad esempio le stelle cadenti e ci capita per esempio il 10 di agosto o giù di lì ci capita di vedere questi improvvisi appunto fuochi dice metaforicamente c'è queste luci nel cielo che cadono ebbene facendo spostare gli occhi che erano fermi muovendo gli occhi che stavano sicuri ecco io guardo il cielo e improvvisamente mi sembra di intravedere una luce magari non esattamente nel punto in cui stavo guardando il cielo e allora ha sposto gli occhi e pare stella che tramuti l'oco e sembra una stella che cambia di sede tramuti l'oco cioè praticamente appunto vi dicevo il fenomeno delle stelle cadenti se non che dalla parte onde si accende nulla si imperde e adesso dura poco in realtà nel luogo dove quella luce si accende non è che c'è stata una stella che è venuta a mancare che non c'è più in quel posto e si trova in un secondo posto no insomma si tratta del fenomeno delle stelle cadenti appunto vi spiegavo che prima non sono un professore di scienze io ma già Dante aveva intuito che non è che questo fenomeno voleva dire che una stella si spostava da un punto del firmamento ad un altro questa cosa già l'avevano capita a quanto pare i medievali esso dura poco cioè è un bagliore improvviso poi non è che continua a cadere questa stella in modo lento no è qualcosa che avviene in modo improvviso tale dal corno che in destro si stende a piedi quella croce quindi scusate prima avevo sbagliato le anime che tacciono sono già quelle degli spiriti combattenti perché siamo già nel quinto cedo tale dal corno che in destro si stende a piedi quella croce corse un astro della costellazione che lì resplende scusate allora adesso devo spiegare questa cosa fondamentale e che non avevo ancora spiegato le anime dei combattenti si presentano a Dante sotto forma di luci che formano e compongono una croce allora abbiamo visto che le anime dei sapienti compongono delle corone invece tutte insieme le anime dei combattenti compongono una croce sono tante luci che fanno come una specie di croce illuminata come certe volte si può vedere nelle vie crucis magari viste alla televisione provate a immaginarla un'enorme croce illuminata si stende davanti a Dante e sono le anime degli spiriti di chi ha combattuto per la fede i martiri ora questi anime si tacciono per dar modo a Dante di esprimere di fare domande eccetera ma soprattutto ecco provate a immaginare la croce ovviamente la croce è fatta in questo modo ci sono due braccia in questa croce sul braccio destro c'era una luce e questa luce da questo braccio destro scende giù fino alla base della croce dove si trova Dante perché Dante qua giù in basso che osserva questa croce enorme di luci che si trova sopra di lui e quindi dal corno destro che si stende cioè vuol dire quindi dal braccio destro della croce venne giù ai piedi di quella ai piedi di quella croce giunse una delle luci di quella costellazione che risplende in quel cielo né si partì la gemma dal suo nastro ma per la lista era di altra scorse che parve fuoco dietro ad alabastro che vuol dire quella luce non si allontanò dalla sua fascia luminosa dal nastro ma corse dentro la striscia formata dai due raggi radiali come una una fiamma che passa dietro una lastra di alabastro ecco quindi abbiamo ancora un'altra similitudine è la luce di cacciaguida che si avvicina a a Dante e quindi scende ai piedi della croce esce da uno dei bracci di quella croce sui nastri si fissavano le pietre preziose quindi ecco adesso avete capito cosa vuol dire nastro provate a immaginare non avete mai visto quelle trasmissioni in cui vi vogliono vendere gli anelli diamanti eccetera e li mettono magari su su questi supporti ecco immaginate uno di questi supporti questi sono i nastri qui la metafora delle gemme richiama quella del nastro ma in realtà si intende la croce di Marte la croce del cielo di Marte e quindi su questa croce trascorse attraverso il braccio destro e il tratto inferiore della croce radiale perché corrispondono a due raggi perpendicolari tra di loro così come i quadranti di un cerchio quindi dal latino radius l'aggettivo radiale in modo che apparve come una fiamma un fuoco che si muova dietro un alabastro trasparente che parve fuoco dietro ad alabastro quando sono andato a visitare Volterra ad esempio ho visto gli artigiani di Volterra mi è capitato di andare a Volterra che ancora oggi lavorano all'alabastro quindi i medievali non conoscevano il vetro ma conoscevano l'alabastro e quindi era un materiale che veniva lavorato molto nel medioevo e che era almeno parzialmente trasparente e quindi dietro l'alabastro si poteva vedere la luce parve fuoco dietro ad alabastro si pia l'ombra d'anchise si porse se fede merta nostra maggior musa quando in eliso del figlio si accorse attenzione qua siamo nel centro del paradiso e dobbiamo mentalmente ritornare al centro dell'Eneide cioè nel sesto libro dell'Eneide Enea incontra suo padre Anchise ebbene c'è una grande analogia fra l'incontro di Enea con Anchise e l'incontro di Dante con Cacciaguida la cosa che accomuna maggiormente questi due brani letterari straordinari centri di poemi è il fatto che l'antenato spiega è il destino di chi sta visitando la sua anima nell'oltretomba cioè Anchisi ha spiegato il destino grande e glorioso di Enea da cui discenderanno i romani a suo figlio Enea così come Cacciaguida spiegherà il destino di Dante ciò che è destinato a fare insomma nella sua vita Dante al suo figlio spirituale diciamo al suo discendente al suo trisnipote ecco Dante in questi canti ecco allo stesso modo infatti dice con la stessa espressione di tenerezza e di affetto l'anima di Anchise si porse ecco sottolineiamo questo pia lo sottolinea Dante anche grazie a questo a questa dieresi si pia l'ombra d'Anchise si porse esiste un aggettivo più virgiliano di questo pia guardate il pius Enea assolutamente no con tutta la pregnanza che ha quel termine per Virgilio quindi dicevamo con quella stessa tenerezza quell'affetto quel rispetto l'anima di Anchise si protese si porse se fede merta nostra maggior musa se merita fede cioè possiamo per noi è affidabile Virgilio caspita se è affidabile se non fosse stato affidabile Dante l'avrebbe avuto come guida per tutto quanto l'inferno e anche tutto il purgatorio fino alla cima alla sommità del purgatorio ma certo che merita fede la nostra maggior musa intendo dire il nostro maggiore maestro di poesia e quindi qua chiama musa perché ha ispirato Dante ovviamente Virgilio quando in Eliso del figlio si accorse quando Anchise nei campi Elisi si accorse del figlio si accorse che era arrivato lì suo figlio provate a immaginare con quanto affetto con quanto amore ha cercato di abbracciarlo poi non sono stati capaci di abbracciarsi perché lui era comunque un'anima evanescente Anchise e quindi non poteva abbracciare suo figlio però con che affetto con che amore la stessa cosa avviene a cacciaguida che che vede questo suo trisnipote in cui si incarnano finalmente i suoi valori e i suoi ideali o sanguis meus o superinfusa grazie a dei sicutibicui bisunquamcevi janua reclusa e allora in un testo nella divina commedia in cui Dante in una maniera comunque estremamente moderna insomma fa un poema nella lingua sua nella lingua dei suoi tempi nella lingua volgare arriva un momento in cui occorre usare la lingua la lingua per eccellenza quella lingua la lingua latina la lingua da cui deriva la nostra lingua volgare arriva un momento in cui bisogna usare un altro registro e un altro registro linguistico se vogliamo e allora una terzina in latino così come abbiamo visto l'anno scorso abbiamo letto una terzina ricordate in provenzale non so se vi ricordate Arnaud Daniel nel purgatorio o sanguis meus o superinfusa grazie a dei che vuol dire o sangue mio o grazia di Dio abbondantemente infusa superinfusa in te a chi mai come a te è stata aperta per due volte la porta del cielo chi insomma può avere questo privilegio come l'hai avuto tu addirittura di poter vedere vedere il paradiso prima ancora di essere morto due volte quindi adesso che sei ancora vivo e poi quando morirai quando verrai definitivamente qui in paradiso ci fermiamo qua ragazzi